La nuova santa ci insegna che l'amore per Cristo passa attraverso il dolore. Chi ama davvero non si arresta di fronte alla prospettiva della sofferenza, accetta la comunione del dolore con la persona amata. Molti nostri contemporanei vorrebbero forse far tracere la croce, ma niente è più frequente della croce messa a taccere. Il vero messaggio del dolore è una lezione d'amore. L'amore rende feconde il dolore e il dolore approfondisce l'amore.